Salame e cioccolato cosa più buona del mondo ti invidio Se vai su Instagram ho fatto una storia In cui chiedevo appunto Facevo vedere il mio salame e cioccolato Fatto a mano da mio cugino Non Fieric ragazzi Siamo tre cugini per chi non sapesse Sembra che Fieric mi faccia pure il salame e cioccolato Faccio vedere lo screenshot di Anivia Ma tanto si vede ogni volta Ah, ah non c'è più Eh niente Siamo tre cugini non troppi Grazie codice a bar per aver contribuito Con 2000 punti URF ragazzi Siamo quasi al 50% Ah effettivamente Effettivamente siamo troppi E il terzo chi è? Ma Siamo 2000 Eccoci Eh domani presenta Fieric gli altri 2000 cugini Ah cazzo la ruota Eh vabbè cavoli tuoi Aspetterà Poverino Prova a parlare Asdo Prova 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 Ok lo sentite bene ragazzi Lo sentite bene ragazzi o lo sentite male Farmo io Ho di Doran Ring oppure di Doran Shield Beh Doran Ring dai Non ho neanche visto che abbiamo contro Guarda Mi sforzo un leone Non è che fanno tanto poke Quindi va bene Doran Ring Oh ta 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 Nemici qua Nemici qua Presto raga Presto Lo uccido Mamma mia ragazzi Ma che main hands Flash E sotto la torre Start di E Ottimo start Molto bene Molto bene Peccato per minchia guardi Che mi ha fottuto la kill Non è come il mid laner di prima Il team di prima è stato Il più simpatico Sono cattivo Va bene Allora non ti invito più Abbiamo risolto Io non ti rubo la kill Io non me la faccio Esatto Lui non se l'è fatta Lui me l'ha fregata Siamo noi che l'abbiamo fatta Ai 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 Ma tanto non ci fanno niente Picchia picchia Bene Aia cazzo Sono quasi al 2 Ok sono al 2 Sono fatto fregare Da misfortune Di nuovo Brava leona No no ma resta un po' qua con noi Non è voluta restare Tra 3 secondi lei Ah non vogliono Ah sì io non so giocare Singed Quindi Sto improvvisando eh Oh morta E qualcun altro qui sta per morire Ah Molto bene Molto bene ragazzi Allora che build aveva fatto Primo oggetto Ok Quindi Potere magico La GLP Questo No facciamo questo No vaffanculo Bene 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 Ma per mid go next Siamo già 3-0 Nice Ottima combo Le control Vabbè ormai ho speso troppo tempo in base Altrimenti avrei aspettato anche le poze Le control sono per i poveri Esatto In realtà per i ricchi perché costano E noi non le compriamo perché vogliamo risparmiare ragazzi Dio quanto danno mi ha fatto Dio quanto danno mi ha fatto Ok Ok Va bene va bene Cosa si maxa quindi la Q Ok Te la fai Oh scappiamo da Yumi ragazzi Ecco perché Yumi è un campione bilanciato Con la pozza forse non sarei molto Però che arrivo bot No guarda meglio di no Non abbiamo bisogno di Yumi Non abbiamo bisogno di qualcuno che rubi la Q Alessandro prima di andare ti consiglio di fare una bella piramide Di emote Altrimenti non te ne vai Va bene va bene Ma questi sarebbero in cosa che consistono Ciao Pain Allora gli easter egg sono delle cose da trovare Ok Sono dei segreti da trovare Quando li trovi c'è scritto proprio Easter egg trovato Una cosa del genere Dipende Però al momento non ce ne sono a trovare Ok Iniziano il 22 Saranno in giro Ma che merda No Alessandro non vale Beh hai vinto 100 punti inutili Meno quello Ok Ok dai è andata abbastanza bene Non ho vita non ho vita Ok ok adesso Appena c'ho la E Andiamo pure su di lei Ho la E Vai Muoio Va bene Eh ma è bedo Ho preso due hit di torre Cazzo Porca puttana Troppi hit di torre Te l'ammazzi? Madonna sei bravissimo Sei bravissimo Cazzo Ho sbagliato A comprare Ma Alessandro Ma stai vincendo un sacco di punti Vabbè Va bene Sta arrivando Sta arrivando Proviamo di mezzinare sulla V Ora ci provo ragazzi Ora ho la GLP eh Ah green shot Cosa dici di questa Sindra? Ho fatto due pireme di notte Buonanotte Alessandro Ok ci sono Cazzo loro non sei Perlomeno mi sforzo Non sei Mamma mia Madonna Avvelenati contemporanei Mamma mia ragazzi Bellissimo Bellissimo Ah Che stupendo Super main Sembra un'altra wave da fare Va bene dai Andiamo via Con lag Non se può giocare Poi mi sono accorto Che stavo guardando la live In 1080 No non è che Che succede che Guardare la live in 1080 Mi fa laggare così tanto Ma siete ma Scarpe che ha fatto Rick Ha fatto le scarpe Magic resist Ah facciamo le scarpe Magic resist Io mi farei le swiftness qui Le swiftness Da Miss Fortune Da Cassio Da Sì Va bene Facciamo le swiftness Altrimenti devo fare le magic pen Le cooldown reduction Fare qualunque cosa Capito Va bene Facciamo le swiftness Io ne farei quasi due Le scarpe Allora addirittura Uno per Gumb Allora non funziona Mario Ricci Mi sa che è in cooldown Ciao Raps Sono arrivato adesso Come sta andando con Spider-Man Tutto bene Tutto bene Trippa perosa Stiamo giocando Le combo con Yumi Stiamo giocando Il sing del fastidio Sta arrivando anche Shyvana Due secondi Due secondi Uno Oh No Non mi dire Ma che è successo Ma Yumi OP Ops E OP Le vere Yumi Con le finte Tipo codice No Ma povero codice Va bene Va bene Quasi pensavo Sti giocando con Max Ma E sta una pesante Offesa E confronti di Di povero codice Adesso non abbiamo O questo Eh Stavo Ero tabato Scusa Bravissima Oh ma vuoi dire A giustatore Ok Bene 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 Vado back E via E siamo solo V Hai visto raga Madonna Sulla V L'ho presa Neanche L'ho immaginato 1v1 Yumi Orpussi Va bene Dopo questa partita Ragazzi ci vediamo Un bello 1v1 Yumi Sarebbe figo Da far vedere Ok ci sto Ci sto Vai vai Così Mi da Mi da La prossima sub Va bene Se vengo io Vi do la prossima sub Va bene Scambio di sub Codice Magari non oggi Che lag Effettivamente Scusa Scusa Ci iniziamo Vabbè dai Però ci può stare Per la prossima Iniziamo La live con un 1v Chi vince Deve regalare L'altro Gli deve regalare Il sub E poi gioca pure La sera Così Ma sono pover Non è vero Codice Hai regalato 3 sub Da Da quando mi conosci Anche dei cheers Quindi Quindi non mi sembra Tanto povero Un altro in più Non te lo puoi permettere Eh Per la scelta Potrei andare a proxare Qua dietro comunque Ok Allora si inizia a proxare Ragazzi Scambio Qualcuno tornerà Eh si Ti scambiamo un po' Adoro 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 più dietro Si tanto Non possono arrivare Si si Io avrei Le ombre gemelle Se vado back Aspetta Sto arrivando le una Sto arrivando le una Eh tanto Sto arrivando adesso Minion Eccoli Venite venite Andiamo da leone Ti prego Eh Che succede No Davvero No 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 Bene Oh praticamente Facciamo quello che vogliamo No Peccato Bene bene Fettiamo la torre qua Prima che cada la corazza Tocca traiardare Vabbè Per una volta Mi vale la pena Ma il challenge di me Mi viene bene Si dark L'hai visto Bene bene I am back Mo che si compra Ah Il relay Dov'è Ma dove cazzo è Eccolo Non costa niente Non c'è che costasse di più Ah Qui come puoi vedere Dark la Abbiamo un sacco di yumi ovunque Guarda qua Guarda che fierezza Cioè Che cos'è Sì sì Ma più tardi Dark la Sono delle Piccole novità Tra l'altro Non aggiornare il gioco Dark la Perché C'è stato un aggiornamento E se tu lo aggiorni Non puoi più giocare Nella cosa Quindi non aggiornarlo Dopo ti spiego Dopo la live Allora ragazzi Andiamo a fare il drago Io preferisco Shyvana Shyvana Sì sì Tanto possiamo scegliere Quale drago In questo caso Facciamo questo Raga di drago Era quello che stavamo Intendendo Avrei potuto salvarti Sì Però questo è per aver rubato La kill prima Aia La vendetta A me stanno Andando senza Q Stavo tankando pure io Questo È guarda Gold reset Su Cassiopeia Con una triple Forse non era tanto Gold reset Comunque Perché Scam Metti la maglia Senza skin Quando gioco io Che ho la skin E metti la maglia Con la skin Quando gioca Asdoni Che è senza skin Ma infatti È per compensare la cosa Purtroppo non era in vendita La terza skin Ma se la mettono in vendita La compro instant Ragazzi Ma sapete quanto tempo Ci ha messo per arrivarmi Sta maglietta Un mese Raga Io ero un mese Che l'aspettavo La modalità Daltonici è on Sì Adesso la togliamo Ragazzi Scusate per i daltonici In chat Prossima volta Ecco Ora non c'è più No Rimettila No Se c'è qualche daltonico In chat Lo metto ragazzi Io non riesco a giocarci Senza Perché? Abitudine Abitudine Assolutamente Mi sono abituato Alla modalità Daltonico sul lol Che ormai Lo sono diventato davvero Hai saltato Un tpio Vabbè 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 Ma la Q Oh Madonna Va ancora lì Ok Sono un po' pazzo Madonna Devo rimettere la modalità Daltonico Perché Vedevo Prima Prima vedevo Vedevo la mia scia Di veleno viola E adesso invece La vedevo di un altro colore Dicevo Ma non ce l'ho più attiva E quindi Stavo andando in giro Senza averla attivata Va bene Torniamo alla modalità Daltonici Perché adesso era verde Il fumo E non lo vedevo Dicevo Ma perché? Ma perché anche il pavimento Qua L'erbaccia Qui è verde Mamma mia Che casino Ovviamente Andiamo ad alta Daltonici L'erba rimane verde Questo perché Quindi I daltonici Il verde Come lo vedono? Cioè Quindi loro Quando vanno al parco Stai Dov'è Quando vanno al parco L'erba Di che colore La vedono Quindi vedono tutto Vabbè Ma è semplicemente Perché il viola Mi è saltato più sulla mappa Che è verde Alla fine Vedono tutto grigio No che brutto Quello è vedere in bianco e nero Al massimo Quanto è bello Quando ti inseguono E poi muoiono di veleno È divertente Questa campione Per sta roba Quella è la modalità Infatti cre... Tricheko Occhialuto Addirittura Divento OTP Singed Mi piace a Yone Molto più Più bello di Yone Ragazzi Secondo me Questi c'è In più che esco Yone Con le spalle Katane Samurai Ninja Cioè Fatti apposta Per la gente Però in realtà Non sono divertenti Quanto sti robi qua Strani come Singed E chi altro c'è O Malphite Che fazione è Singed Cos'è Singed Sarà Zaun no? Non lo so Sì sì è Zaun Ora risponde Onix che lo so Onix sa tutto E vado Sì è Zaun Partiti Fantasmini Ok ok Ma io vado su Miss Fortune Cazzo però Fa un sacco di danni Comprare armor Non so Ma no Veramente dovresti Comprare Magia Per killarla Prima che lui Killi te Capito Anche Ma Da sto punto Non ho male Ora sì Aia Cioè Leona mi ha stunnato Prima di morire Quel che bastava Ma come mai siamo sempre In 2v4 Sempre 2v4 Ragazzi Ok che Siamo forti Ma dateci un piccolo Uno in più Anche 3v4 Andrebbe bene Mi son fatto Il nickels Ok Ok Comprare il dark seal O direttamente Magiai Quasi di killi Prima che possono Farti danno Sì ci sta Oppure posso comprare Il morello E via No No Ha brutto il morello Facciamo così Io farei Magiai Dark seal E fare Dark seal Più La maschera Dai andiamo Ho fatto il magiai E le scarpe Ngecrasist Così mi hanno duro di più Perché sono tutti AP E poi faccio un'altra cosa La maschera La maschera si ci sta Però anche il morello Non fa schifo Ieri Ricli ha giocato Con il morello Però effettivamente Di là non si curano Tanto Ieri l'aveva preso Perché si curavano Quindi facciamo la maschera Va bene Va bene Uno fa stream Sempre dopo Le 18 No Lei faceva sempre stream Dalle Dalle 3 Alle 6 Poi sta cambiando Orario Sta facendo Dalle 18 Alle 21 Ultimamente Prende oggi Che devo andare A cena fuori Doviamo uccidere Quella La si paia Va ammazzata Ma Ci abbiamo Un team Ancora No Ma Poi non serve Vai ragazzi Stando su Questo stronzo qua Qui in due No Non ci credo Poi mi spieghi Come ti è target Ah è morta Poi mi spieghi Comunque Come ha fatto Targetarti Quando ero Tipo Monopixel Solità Vabbè Ma Va benissimo Adesso Mascherina E via Capito Funziona Molto bene Sto per arrivare Ho già la maschera Ho Mejai Con 4 stack Singed Dei spread Dei cavi Effettivamente Però mi face Lo shurelia Andiamo un po' Più veloce Lo shurelia Mi vado Veloce Sto singed È molto veloce Sì Mi sarei preso La dead man's plate Se non fosse Rotati tutti Tp Adesso dovrebbe morire Ecco Va bene Posso stare sempre Con la Q attiva Mi sa Potevi prenderlo tu Cazzo No Non ci penso mai Ma Tanto Ho male finito Andiamo a vedere Se c'è qualcuno Non ho ancora preso La kill di Mordekaiser Eccolo lì Mordekaiser Andiamo Andiamo No Oh bravissima Il sword Questo lo puoi prendere tu No non c'è Va bene Usciamo bot lane O andiamo mid Va bene Va bene Anche i bot lane 18 kill Sono arresi Sono arresi 18 kill singed E anche questa ragazzi Adesso la votate Codice Qual era stato Il voto di prima Complessivo Il voto della combo Di prima C'hai guardato Io non ci ho guardato Ragazzi Devo ammettere Che mi sono dimenticato S meno No tesorio prossimo No tech knock Grazie mille Per essere passato E mi fa piacere Ti piacciono le mie nuove magliette 10 aveva vinto prima Ok Però Volevo la media Di tutti i voti Va bene Va bene Massimo Fai Screen Codice Grazie mille